E' stata presente di recente a Mattino 5 la bella, brava e simpatica Lori del Santo, famoso personaggio appartenente al mondo della tv italiana. E proprio ospitata da Federica Panicucci, ripeto, a questo programma Mattino 5, Lori ha ripercorso la sua carriera e ha raccontato anche il dolore per quanto riguarda l'amato figlio, che purtroppo non c'è più, è passato a miglior vita. Nel parlare, nel raccontare, nell'aprirsi Lori, purtroppo avrebbe anche pianto, un pianto che ovviamente è notato e non è passato, di certo inosservato. Insomma, una tristezza cociente quando gli muore un figlio è ovviamente un dramma in piena regola, come ogni vita che non c'è più e quindi si spegne, crea. Vi ringrazio in primis per la visione di questo video, in secundis per il relativo ascolto, datevi la vostra iscrizione dal vostro canale verso il mio. Un saluto caro, questo video non vuole, ripeto, non vuole vedere la privacy di Lori del Santo né della famiglia del Santo, ma solo informare eventuali persone nel pieno e tutto dal rispetto della privacy di Lori e della sua famiglia. Un saluto al prossimo video da Leandro, un arnotore italiano.